Che dire, per Pistoria penso che oggi sia una giornata importante, una giornata importante perché è una vita importantissima, non sede in Pistoria ma a livello mondiale e entra a far parte della nostra famiglia. E entra a far parte della nostra famiglia, questo lo sapete già è l'Itachi, quindi la persona dell'ingegnere ha finito otto Maurizio, che dopo si chiama da solo Maurizio perché si è detto che una volta è entrato in famiglia e si chiama tutti quel nome. E che dire, siamo entusiasti e entusiasti, come dicevo prima, è l'Itachi, questo è un finanziamento importante per tre anni e lo facciamo. E ho capito, per noi molto credo di cambiare sotto tutti gli aspetti, non mettiamo lì, guardando lì, il dottor De Sivio oggi mi ha preparato, perché noi abbiamo fatto già questa data sulla, noi non mettiamo lì i primi e la trascendenza, tutto per migliorare, tutto per salvare, ma noi speriamo di farlo. È attraversoiscante, allora mi chiedono, quello che era capito mai a fare a pezzi europei. Ho capito, perché poi io metto il tuo negozio di successo è venuto abbiam pronto un problema di un zero grande il paziente, di riscoptinnato che è spaventato, ed è likely possibile che s'assvarc低 della gente è venuta entra nei lu av finale che possa aspettarlo. e veramente come potrebbe successe stasera, perché scottivo di un valore. Ho un problema di domenica, come potete dire, che vi provo. Ma non fate certo, ci sono già piuttosto. Quindi, domenica, ci sono i dici anni. Come inizio, si so che non è, e abbiamo a che fare con il bilancio. Ma non è molto troppo. Questa missione invece, con la parola grosso, grosso, è continuamente ripetuta nella vita fina. E la ripeto, gris, gris, gris. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Io, grazie a tutti. E questo punto, questo lo chiamiamo anche il primo anno, questo punto, perché ne abbraccia la scena, questo, lo so che è il governo di un'alza. E questo è maggiore, secondo me, quale essere il più attivo per uscire l'altro primo anno. Perché la porta parte, come la porta triennale, che parte dall'inizio dell'anno prossimo, fino alla fine del 2019 di settimana. E questo è il mio senso, questo è il mio senso, il mio senso è il mio senso. E noi ci sentiamo un pane di credenza vita, il suo senso è il mio senso.